Uomini che amano le donne. E questo il titolo della mostra itinerante organizzata a Ponte Cagnano-Faiano è visibile fino al 16 marzo. Un'iniziativa realizzata dall'Associazione Donne Fuori dal Comune in collaborazione con numerose attività commerciali del centro urbano che hanno deciso di esporre le opere degli artisti nelle loro vetrine. L'evento si è aperto sabato con la passeggiata degli artisti che facendo tappa nei vari negozi aderenti hanno raccontato le loro opere. Questa è un'iniziativa nata da un'associazione che è Donne Fuori dal Comune, da un'altra che è Paesaggi Narranti, dalle Gambiente Circo Locchi Verdi e in collaborazione anche con il Museo Archeologico Nazionale, con il patrocinio del Comune di Ponte Cagnano-Faiano. Stasera percorreremo questa passeggiata in compagnia degli artisti che hanno esposto le loro opere e ci mostreranno e ci racconteranno il significato di ogni loro opera. Il tema della mostra è Uomini che amano le donne perché abbiamo concepito l'idea di festeggiare la donna in modo alternativo. Quindi dall'8 al 16 avremo esposto tutte le opere e quindi sarà possibile visitare la mostra e non solo. Entrando all'interno delle attività che espongono l'opera sarà possibile ricevere la mappa per percorrere il percorso e avrete un ticket che sarà praticamente spendibile nei negozi che hanno aderito all'iniziativa quali attività di ristoro. Potreste fare colazione piuttosto che bere una birra, un tagliere e per ogni giorno dall'8 al 16 ci sarà la possibilità di usufruire di questo ticket.